nell'esercizio a pagina 17 numero 22 dovrete riscrivere il testo la fatica di sisifo in un testo coeso e organico per farlo dovrete usare gli opportuni connettivi e soprattutto dovrete evitare le ripetizioni inserirete inoltre i segni di punteggiatura che riterrete più adatti alla nuova versione del testo per svolgere il compito dovrete accedere a classroom nello stream del corso di classroom troverete il link al compito aprirete la presentazione di google slides la fatica di sisifo shopping list text individuerete la diapositiva che corrisponde al numero del vostro gruppo per esempio se il vostro gruppo è il numero 5 lavorerete sulla diapositiva numero 5 ciascuna diapositiva è contrassegnata da un colore diverso scriverete la versione corretta dell'esercizio nella casella di testo in cui compare la scritta scrivete qui il testo una volta completata l'attività chiudete il file e consegnate il compito